Salve e benvenuti a questo primo tutorial sul software WinPilot. Oggi vogliamo darvi una rapida panoramica delle funzionalità e delle caratteristiche del software WinPilot, con il quale non solo potrete gestire la vostra cantina, ma, in combinazione con i nostri sistemi di controllo della fermentazione, potrete anche automatizzare i processi più importanti durante la fermentazione. Prima di iniziare vorrei segnalare che al momento ho impostato la lingua in inglese, ma nelle impostazioni generali si può facilmente cambiare la lingua in tedesco, francese o italiano. Attualmente stiamo lavorando per includere ancora più lingue. Passiamo subito alla visita della cantina. Qui si ha un'ottima panoramica di ciò che sta accadendo nella cantina in questo momento. Naturalmente è possibile personalizzare questa vista in modo che assomigli alla cantina reale. Se facciamo clic qui per aprire maggiori dettagli, possiamo vedere la temperatura attuale del serbatoio e la temperatura target impostata. Il serbatoio segnala un allarme perché la temperatura attuale è molto più alta della temperatura target. Qui vediamo che il serbatoio non è ancora stato pulito, quindi il software ci chiede di pulirlo prima di procedere. E qui il serbatoio è pronto per un nuovo lotto. Facendo clic su questa vasca si aprono le informazioni sul bagno. Qui non solo possiamo vedere ulteriori dettagli sulla vasca, ma possiamo anche controllare la temperatura. È possibile passare dal raffreddamento al riscaldamento alla modalità automatica, nonché regolare la temperatura target e l'intervallo per l'allarme di temperatura. Gli allarmi non vengono visualizzati solo sulla vasca, ma possono anche essere inviati come email o notifica push sul telefono cellulare. Anche qui è possibile regolare i widget per adattarli alle dimensioni dello schermo e alle preferenze personali. Qui si aggiungono le misurazioni, qui si vede il grafico della temperatura e della fermentazione e più in basso c'è anche un widget per gli ordini di lavoro all'interno di questo lotto e infine una documentazione completa di tutte le attività che sono state svolte. Ad esempio, qui vediamo che il 13 maggio è stato aggiunto un agente di trattamento e possiamo anche vedere da chi, in modo da avere sempre, una tracciabilità e una documentazione. Qui sopra possiamo compiere diverse azioni. Ad esempio, possiamo fare clic qui per travasare questa vasca o qui per dividerla. Naturalmente, tutti i dati storici del lotto saranno trasferiti al nuovo lotto della nuova vasca. Possiamo modificare il volume qui, aggiungere agenti di trattamento qui o emettere un nuovo ordine di lavoro. Non è possibile accedere ai diversi serbatoi solo dalla vista della cantina da cui siamo partiti, ma anche dall'elenco dei serbatoi. Qui sono disponibili diverse opzioni di ricerca e di filtro. Ad esempio, possono filtrare tutti i serbatoi che sono attualmente riempiti con vini bianchi e così avrò tutte le informazioni pertinenti ben ordinate. Un'altra grande caratteristica è che nelle impostazioni dei serbatoi è possibile accedere anche alla cronologia dei serbatoi in modo da vedere tutte le partite che sono state in precedenza in questo serbatoio. L'elenco dei serbatoi può anche essere facilmente esportato in un file Excel. La tappa successiva è l'elenco dei lotti. Qui non trovo solo i lotti attivi, ma anche quelli finiti. Così, anche tra molti anni, sarò in grado di accedere nuovamente a un determinato lotto per verificare come è stato fermentato esattamente. E naturalmente, anche qui posso esportare facilmente il file in un file Excel. La funzione successiva è l'elenco degli ordini di lavoro. Il software Vimpilot consente di preimpostare gli ordini di lavoro e di assegnarli ai singoli dipendenti per assicurarsi che tutti i compiti della cantina vengono svolti. I dipendenti possono segnare i loro compiti come completati nella loro applicazione mobile e possono anche indicare il tempo che hanno impiegato per completare il compito. Qui possiamo trovare tutti gli agenti di trattamento che abbiamo attualmente in magazzino. Facendo clic su uno di essi, è possibile visualizzare anche le informazioni sul lotto di quel particolare agente di trattamento e risalire ai lotti in cui è stato utilizzato. E questo ci porta già alle impostazioni generali. Qui posso gestire gli utenti. C'è una funzione per preimpostare i protocolli di fermentazione ai fini di automazione, ma questo è materiale per un altro tutorial. Nelle impostazioni globali posso regolare la lingua e qui posso collegare il software ai regolatori della cantina. Abbiamo anche aggiunto alcuni pratici modelli e preimpostazioni che vi faranno risparmiare un sacco di tempo quando lavorate con il software. L'ultima voce del nostro menu sono i sistemi di raffreddamento. Il collegamento dei sistemi di raffreddamento con il software VINPILOT assicura che tutta l'energia venga utilizzata nel modo più efficiente. Questo è quanto per questa rapida panoramica delle funzioni del software VINPILOT. Tra l'altro potete utilizzare il software VINPILOT sul nostro server interno o anche collegarlo al cloud, il che vi permetterà di accedere alla vostra cantina da qualsiasi luogo e di apportare importanti modifiche anche durante il viaggio. Presso ci saranno altri tutorial per approfondire le diverse funzionalità del software VINPILOT. Quindi rimanete sintonizzati e se nel frattempo ci sono domande, non esitate a contattarci anche nella sezione commenti qui sotto o via email a service-vimpilot.com A presto!